Allora adesso voi partire così no? Fate chi 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 Fate così Chi 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 Non è una cosa stupenda Non mi diciamo che siamo più fini di un uomo Pronti? Stai fatto il mano? Eh già Tutto il possibile così pronti eh? Allora facciamo un uomo Chi 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 Ok? Uno, due, tre Chi 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 Due Inizio, cominciamo Ah cazzo